Apriamo il numero 1 Oggi tocca a Ele Vai Ele Un po' un casino Ma lo mancola qua Apro Vai vai Hai un aiuto? Eh si non so riesco Un po' Ce la fai? No Ma forse si apre No Mamma mi aiuti? Così Wow Stavonchi Numero 2 Che carino queste Avevano un sacco di bontà Eccolo qua Vai Kate Stacca a te Brava Wow E' buonissimo Il numero 3 Dov'è? Non lo so Eccolo Apro Vai Ele Siamo il numero 4 Chi apre? Kate Vai Kate Il numero 4 4 4 4 Eccolo Eccolo Brava Vai apri Da quale parte? Qua Qua? Si Ce la fai? Ce la fai? Oh Buon buono Abbiamo il numero 5 Dov'è? 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 Eccolo Eccolo Vai vai Ele Vai Wow Abbiamo il numero 6 Vai Kate Oggi tocca a te Eccolo Apro Vai Oh Che d'è? Wow Apriamo il numero 7 Dov'è? Tocca a Ele oggi Apro Vai Ele Apro Apriamo il numero 8 Oggi tocca a Kate Ecco Brava Ecco Brava Vai apri Oh Yeah Wow Il numero 9 Sì Bene oggi tocca a Kate Sì Se lo volete ditemelo eh Eccolo Eccolo Apro Vai Ehi cosa uscirà Wow Wow Abbiamo il numero 10 Oggi tocca a Kate Eccolo Wow Sì Qua 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 Wow Un What Kindle Un 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 Hatq Un 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 3 2 eccolo wow, è grande che ti apri wow duplo oggi abbiamo il numero 13 maiele tocca a te eccolo wow che buono apriamo il numero 14 vai che oggi tocca a te ecco eccolo vai apri qua si wow numero 15 maiele tocca a te eccolo oh wow numero 16 io ce l'ho messo da qui dove? eccolo vai apri si wow numero 17 17 tocca a te eccolo eccolo wow numero 18 tocca a kate no eccolo si numero 19 dov'è dov'è? dov'è? maiele tocca a te eccolo numero 20 guarda questo calendario non ce la fa proprio eccolo ecco oh wow un kindermaxi numero 21 tocca a ele questo calendario questo calendario non ce la fa più eh cade a pezzi ecco ecco vai ene numero 22 2 tocca a kate 10 1 eccolo 2 numero 23 questo calendario ragazzi tra poco ci abbandonerà è tutto rotto non ce la fa più eccolo maiele oggi tocca a te wow numero 24 ultimo lo aprirà kate no sennò ce la fa più proprio è vero eccolo vai kate wow buono ciao auguri a tutti pdc t mi Eric hai a parfois permettete Grazie.